Linea d'ombra, siamo alla stretta finale. Nei prossimi due giorni le altrettante ultime odienze prima della Camera di Consiglio dei giudici Allegro, Valiante e Giocoli. Domani, con inizio fissato alle 9.30, previste le arringhe di due avvocati difensori, in primis Silvana D'Ambrosi per Giuseppe Santilli e fratelli Petrosino D'Auria, poi Giovanni Annunziata per Alberigo Gambino. Il giorno successivo è prevista la breve replica del PM con eventuali contro-repliche dei collegi difensivi. La Camera di Consiglio comincerà a supido topo e durerà almeno per una settimana, stante la volontà dei giudici di depositare insieme al dispositivo anche le motivazioni della sentenza. Insieme alle riflessioni verbali di accusa e difese, i tre togate avranno a disposizione una mole impressionante di produzione documentale. Non solo atti amministrativi, ma anche centinaia di intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre alle due registrazioni depositate all'atto della sua denuncia, direttamente dal grande accusatore Anneligo Panico, una delle quali, tuttavia, è stata dichiarata manipolata dal perito che lo stesso tribunale ha incaricato di perizia. Sabato, grande affluenza di pubblico nell'aula bunker Nicola Casotti, per la ringa del professore Alessandro Diddi, uno dei due difensori di Alberigo Gambino. Per sei ore ha ricostruito la vicenda in maniera completamente differente da quanto proposto dalla pubblica accusa, puntando sulla produzione di numerosi atti amministrativi che sembrerebbero smentire, quantomeno nella loro collocazione temporale, le denunce di Amerigo Panico. Grande attenzione di Diddi anche al contesto politico paganese, alla troppo rapida consumazione delle indagini, alla numerosissime ritrattazioni di testimoni e alla mancanza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Per tutti questi motivi ha chiesto l'assoluzione di Gambino, per l'ex sindaco di Pagani il PM ha chiesto invece nove anni di reclusione.